3 giocatori che dopo l'uppered sono diventati no illegali, di più, buongiorno, mi moglie Rolfo e il magico Timo Werner, rispettivamente 90, 92 e 92 Allora, prego subito, buongiorno a genere devastante, mo è illegale, c'ho un ball type enorme, è full automatico, è grosso fisicamente, c'ha tanta forza, sposta tutti Non riesco a trovare un difetto a sta carta, forse un piccolissimo difetto, L2R2 non è proprio super veloce per vedere il body type, ma ragazzi questo è un animale Per quanto riguarda Rolfo ha preso più 3, probabilmente verrà ancora un altro più 1, quindi che ve lo dica fa, migliorata difensivamente un botto, fa molti più interventi rispetto a prima I passaggi sempre sgravati, è migliorato il tiro, è migliorato un sacco pure la velocità, forza fisica che arriva al 98, questa è veramente in cararmato Cioè ragazzi, sprint boost, passaggi con l'R1X, perfetti, finalizza, mette danno che pare, veramente, o il centrocampista box to box, secondo me, o terzina di quelle sbloccate Tipo nel 4, 3, 2, 1 che sale e fa passaggio e cose foglie, e va via in velocità E poi chiudiamo con Timo Werner, niente ragazzi, doppio passo e prende 30 metri a tutti, finalizza che è una bellezza, i passaggi pure sono migliorati in una cifra rispetto all'arte versioni Regge fisicamente, se gira con i miei movimenti, dribbling con l'R1 assurdo, insomma ragazzi, in attaccante c'è abbastanza, gli mancano solo le 5 stelle skill, ma questo è un mostro sacro